Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Sonia Bruganelli, dopo il tiepido debutto a Ballando con le stelle, ha deciso di replicare alle critiche dei giudici con qualche frecciatina su Instagram. Anche Alberto Matano ha espresso il suo pensiero definendo l'esibizione dell'imprenditrice molto mansueta rispetto al solito. Anche Paola Ferrari ha commentato la performance di Sonia, sottolineando che pur essendo brava a ballare, non le piace come persona. Il debutto di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle non ha convinto la giuria, che avrebbe preferito vederla più frizzante ed espressiva. Dopo l'esibizione, i giudici hanno cercato di provocare una reazione polemica in lei ma senza successo. Molti si aspettavano di vedere la sua solita verve pungente in pista, ma Sonia questa volta si è mostrata più riservata. Tuttavia, una volta spenti i riflettori, Sonia ha deciso di rispondere alle critiche pubblicando su Instagram una foto con una frecciatina alla giuria, ha anche annunciato che la prossima coreografia sarà più impegnativa e ha lanciato un'altra frecciatina ai giudici, sperando che questa volta si concentrino sul suo ballo. In conclusione, Sonia Bruganelli ha dimostrato di non essere solo una giudice, ma anche una concorrente pronta a difendere la propria performance. La sua partecipazione in Hoke in le stelle promette di essere direttiva.